Professoressa Silvia Manetta, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale Vincenzo Comi. Stamane nella sua scuola si verifica l'Open Day. Con quali parole vuole invogliare i ragazzi delle terze medie di iscriversi al suo istituto? Innanzitutto con le parole del cuore. Perché l'accoglienza che i ragazzi hanno in questo istituto, io penso che non l'abbiano in nessun istituto di Teramo. E non perché devo fare cicero prodomo sue, ma semplicemente perché essendo un istituto di piccole dimensioni c'è la possibilità dell'ascolto, dell'attenzione all'alunno, del recupero, di curare l'alunno nel percorso che devono iniziare in questa scuola e finire in questa scuola, senza vagare da un istituto all'altro come succede a centinaia di ragazzi di Teramo che vagano nei vari istituti perché non si sentono accolti. Poi con le parole anche della mente, con la parole anche della saggezza perché questo è un istituto economico che la riforma vede come unico istituto economico della città di Teramo che possiede il ragioniere di una volta, che diventa un ragioniere informatico, un ragioniere che parla lingue straniere e che articola, può articolare il proprio percorso in due settori ulteriori sistemi informativi aziendali, che è una nuova articolazione dell'istituto economico che punta appunto sull'informatica e su diritto d'economia politica e poi relazioni internazionali per il marketing, questo è veramente una novità questa articolazione consente ai ragazzi di studiare tre lingue straniere quindi di viaggiare bene in tutta Europa e di stabilire rapporti commerciali con tutta Europa oltre a studiare proprio le relazioni internazionali e le tecnologie della comunicazione senza dimenticare poi che questo istituto economico ha anche il settore turistico